La grandezza di un romanzo sta nella sua capacità di metterci a disagio e di farci dubitare di ciò che diamo per scontato. Libri come questo compiono un crimine contro la verità. Tutte loro sono consapevoli che si tratta di una cosa proibita e pericolosa. Nel corso degli anni ognuna di voi mi ha dimostrato una grande passione per lo studio. Dio della letteratura, quella che non vogliono farci studiare, quella dei libri proibiti. Vediamo se leggere Lolita qui a Teheran ci aiuterà a combatterla. Non siamo sole. Cosa succederebbe se ci arrendessimo a questa vita? Nessuno può raccontare la tua storia meglio di te.